Due anni di reclusione ciascuno, questa la richiesta di condanna nei confronti dei tre operatori dell'RSA degli Orrori, la struttura di Castel San Nicolò, dove nel 2018 furono scoperti maltrattamenti di ogni tipo, subiti dagli anziani ospiti, immagini sciocchi, immortalate dalle telecamere nascoste e piazzate dai carabinieri. L'accusa in aula è stata sostenuta dal PM della Procura di Arezzo Giulia Maggiore, di fronte al giudice Fabio Lombardo, davanti al quale si è svolta sia l'udienza relativa alle operatrici che avevano optato per il parteggiamento, che quella per coloro che invece avevano scelto il rito abbreviato. La richiesta di patteggiamento è già avanzata, è di due anni, mentre per gli imputati del rito alternativo la richiesta di condanna della Procura è stata appunto di due anni a testa. Le difese invece hanno chiesto l'assoluzione per i tre imputati. L'udienza è stata rinviata al prossimo 13 dicembre, in quella data è possibile che si arrivi a sentenza. Nell'udienza dello scorso luglio erano state infine accolte le richieste di costituzione di parte civile, presentate dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, dalla Comars, il consorzio di cooperative che aveva in appalto i lavori e che aveva a sua volta dato l'incarico alla cooperativa Coplar, entrata nel procedimento invece in qualità di responsabile civile.